Ville, casali di campagna, appartamenti in palazzi della città, ma anche terreni e fabbricati, tutti adesso sotto sequestro conservativo in vista del processo per il crack di Banca Etruria che prenderà avvio domani. Si tratta di beni mobili per svariati milioni di euro che appartengono a 16 dei 25 imputati, ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino, accusati a vario titolo di bancarotta semplice e fraudolenta. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Arezzo che ha accolto così l'istanza presentata dal commissario liquidatore della ex Banca Etruria, Giuseppe Santoni. Deve ricostituire il patrimonio con cui eventualmente poi far fronte a tutti i debiti maturati dalla banca fallita, quindi ha fatto un atto secondo noi doveroso e esprimiamo soddisfazione che abbiano predisposto questo sequestro alternativo perché indubbiamente questo fa garanzia di tutti coloro che si sono costituiti parte civile. Purtroppo sono stati esclusi da questo sequestro conservativo quelle persone, che avendo adito al processo con Rita abbreviato, ovviamente sono rimasti fuori. E lì c'è da dire che probabilmente, specialmente per alcuni soggetti, la cosa grida un po' vendetta. Domani intanto partirà il procedimento per il crack di Banca Etruria. Si tratta di un vero e proprio maxiprocesso con oltre 2.000 parti civili già accolte, gran parte risparmiatori e azzerati. Feder Consumatori, dopo l'esclusione del novembre 2017, è pronta nuovamente a chiedere di potersi costituire parte civile, in questo caso come associazione nazionale. Abbiamo dato questo mandato di rappresentanza simbolica, che ha anche un valore politico più forte, alla nostra associazione nazionale. Si costituirà, chiederà di essere ammessa a parte civile la nostra associazione Feder Consumatori Nazionale, anche in nome e per conto di tutte le altre associazioni che si sono battute in questa vicenda dei risparmiatori. Insieme a questo ci sarà la costituzione di altri 10 risparmiatori, che assommati a quelli che abbiamo presentato da molta precedenza durante le dienze preliminari, porterà il totale dei risparmiatori azionisti e obbligazionisti complessi a 1.536, che è il più alto numero di parti civili che si sia mai costituita e stato ammesso in qualunque processo che io ricordi.